È la prima volta che sono qua con l'IDD, è una bellissima realtà, per me tra l'altro è la prima gara, io ho una leggerissima disabilità a un polso, devo dare mezzo gas per volta, ho esperienza più che altro nel fuoristrada, soprattutto nell'enduro in Africa, ho fatto quest'anno buon risultato a dei rally in Africa, la pista non è una novità perché abito vicinissimo, è Mugello, però è la prima volta che faccio una gara, Emiliano mi ha trascinato in questa avventura, speriamo di divertirci tutti e speriamo del sole e non della pioggia.